È una struttura che abbraccia a 360 gradi il paziente. È con grande orgoglio che noi lo proponiamo in questo territorio. Siamo poche. Bellezza e salute si incontrano al Beauty Medical Clinic di Sant'Antimo. Apre i battenti non un semplice centro estetico, ma un luogo dedicato al benessere grazie ad un team di professionisti ed esperti del settore della bellezza e della salute. Ora rimostro tutto il nostro centro. Qua abbiamo la stanza fitness dove facciamo sia palestra e sia il bacufit. Qua ci sta la prestoterapia, che è un massaggio linfatico meccanico che ti aiuta a ridurre i liquidi e gli edemi. Questa è la stanza della Lashmaker, che si occupa di ciglia, estescio e sopracciglia. L'estetica viso, sia viso che massaggio. Questa è la stanza massaggi e in più noi ci occupiamo del metodo Shalla. Il Beauty Medical Clinic è tra i pochi punti certificati ad occuparsi dell'innovativo e ricercato metodo Shalla. È una fusione di massaggi linfatici e di manovre sia modellanti che linfatiche e serve soprattutto post-operatorio e ti sgombia di trena in una sola seduta. È con grande orgoglio che noi lo proponiamo in questo territorio. Siamo poche. Atmosfere rilassanti e un team sempre pronto a prendersi cura dei clienti a 360 gradi con un approccio alla bellezza, passando per la salute. È una struttura che abbraccia a 360 gradi il paziente, che entra in questo piccolo angolo di paradiso detto così perché è dedicato interamente al benessere fisico, di relax, quindi con l'aspetto spa, benessere e trattamenti ma soprattutto medicale con l'area nutrizionale che vedemi come protagonista e tutti gli altri colleghi che si alterneranno per un benefitto totalizzante la psicologia, fisioterapia, post-turologia, l'ortopedia, chirurgia estetica quindi sarà veramente una clinica dedicata a 360 gradi al paziente.